Massimo Moratti rivela uno degli obiettivi del prossimo mercato interista, si tratta di Hazard, ventenne dell'Ille, che nella classifica di gradimento del presidente Nerazzurro sembra aver preso il posto di Giuseppe Rossi. Rossi è fortissimo, ma Hazard, se possibile, è ancora più sorprendente. Non so se noi dell'Inter lo abbiamo mai contattato, ma si tratta senza dubbio di un giocatore interessante. Ogni volta, che torno a casa, c'è uno dei miei figli, che continua a ripetermi, ricordati Hazard, ricordati Hazard. In effetti, rispetto all'attuale posizione dell'Inter a proposito di calciomercato, credo che sia più adeguato pensare a lui piuttosto che a Giuseppe Rossi, che comunque è fortissimo. Moratti, inoltre, smentisce che Samueletto possa andare via, magari al Manchester City. Può darsi che qualcuno voglia i nostri giocatori, ma non c'è niente di vero. Sul fronte partenze, invece, sembrano più probabili quelle dei centrocampisti MC Donald Mariga, diretto al Napoli, e Tiago Motta, che, complice alcuni screzzi avuti in questa stagione con Leonardo, potrebbe fare le valigie, due le destinazioni papabili per lui. Roma, sponda giallorossa, o Milano, naturalmente sponda rossonera. Sempre a Napoli, invece, potrebbe andare Pandevo. Nessuna possibilità, però, di avere Amsic in cambio.